Radio 2, Radio 2, QRP, ti ascolto, va se fuori frequenza, mi sono spostato io, dai, 1 Radio 2, QRP, questo è 1 Ecotango 072, mio nome è Massimiliano, Max per gli amici, e sono in distretto di Frusinone, la provincia Frusinone, 658, questo è l'è. Ti ringrazio Max, io sto utilizzando 5 W di potenza, una lupa autocostruita, piantata sul palo in giardino, tutto qua, alimentatore portatile, quindi condizioni sono queste, 9 più 10 il tuo rapporto, avanti Max, cambio. Diggli che il video lo trova su Youtube, al mio nominativo. Un'attivazione altalenante, up and down, sale sind, 5,8 in questo momento, complimenti per i tuoi 5 W, QRP stazione, ottimo, ottimo stazione QRP, io vado verticale, uno sirio, 5 ottavi di onda, 6 metri e 75 di altura, e l'autoparecchiatura radio è una IESU FT920, IESU FT920, microfono originale, potenza minima, 75 W in antenna, mi dirai il tuo nome per cortesia, avanti. Il mio nome è Graziano Max, il mio nome è Graziano, e ti voglio anche dire che questa conversazione sarà trasmessa su Youtube, con il nominativo di Italia Zulu 4, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Victor Quebec Sierra, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, e digita questo nominativo e sarà su Youtube da domani. Benissimo Max, il tuo segnale è 9,10 radio 5, avanti cambio. Sì, ok, perfetto, grazie mille Graziano, ci siamo ascoltati anche dall'altra parte allora, perché non mi è nuovo il call, non mi è nuovo il call, non mi è nuovo il call, digli che non sei te, quindi ci siamo ascoltati anche dall'altra parte suppongo, adesso non ho il logbook davanti, però mi sembra di sì, caro Graziano. Com'è che si chiama? Max. Ti ascolto veramente, veramente, qui in provincia di Frosinone, a 75 chilometri sud-est di Roma, la mia città esattamente è Ceccano, Charlie Echo, Charlie Charlie, Alfa November Oscar. Grazie mille, complimenti per la tua stazione QRP, Graziano, ti auguro tante belle cose, spero di ascoltarti nuovamente. Ti ripasso il microfono, Graziano, 1 radio 2, guardarato QRP, questi è 1 ecotando 072, Max, distretto di Frosinone, centro d'Italia. Ciao, ciao Graziano, buonasera. Ciao Max, sono Alessandro, sono il proprietario del nominativo che ti hanno passato prima, mi fa piacere averti sentito anche in banda HF sui 40 metri, sicuramente. Ti saluto, ti auguro una buona serata, 73, ciao. Sì, ok, perfetto, ciao Alex, grazie a te, sì sì, mi sembra di sì, poi vado a controllare, però mi sembra di sì, spero di ascoltarti anche dall'altra parte, magari nei prossimi giorni. Grazie a te, grazie a Graziano, un saluto a tutti e due e buon divertimento. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Max, ma hai fatto 9 più 20 in quest'ultimo passaggio Massimiliano, 9 più 20. Un abbraccio, ciao, grazie ancora. Ciao, grazie a voi, buon divertimento, ciao, grazie, buona serata. Chiamo ancora India, chiamo Italia, il centro Italia.